Sì, grazie Presidente. Voglio anch'io portare la mia suggestione rispetto ad un problema che ho avuto modo di approfondire in Commissione, non con un approccio ideologico, ma solo con la voglia di ascoltare e di farmi un'idea di quella che avrebbe dovuto essere poi la scelta migliore per la popolazione valdostana. Ringrazio Vallessantè perché ha portato all'attenzione di quest'Aula un problema non che non fosse conosciuto, ma sicuramente ne ha accelerato la discussione. Credo che questo, ai fini dell'interesse della popolazione, sia stato sicuramente un bene. Però mi sembra di aver partecipato, sentendo i plurimi interventi della collega Spelgatti, di aver partecipato a delle audizioni diverse rispetto a quelle che ha enunciato la collega. Perché io devo confessare che partendo dalla proposta di Vallessantè, che genericamente chiedeva un ospedale fuori a Osta, senza individuare una zona precisa, o meglio individuando una zona precisa, sapendo che questa zona è coperta da un vincolo archeologico, con una, così come ricordato oggi dal collega Bacega, una netta contrarietà da parte della popolazione e dell'amministrazione di San Cristofo, anche perché qui ci stiamo confrontando con persone che oggi vogliono delocalizzare un ospedale, ma che su altri tavoli alzano le barricate sul consumo del suolo. Per cui credo che ci sia quantomeno una piccola contraddizione rispetto allo sviluppo di questa idea. E devo dire che nelle audizioni, contrariamente a quello che ha elencato la collega Spelgatti, ho trovato tutte le risposte che mi portano a votare con convinzione la risoluzione che è stata presentata dal collega Shatrian. perché si è partiti non dalla giustificazione, ma dallo spiegare perché è necessario ed è importante che ci sia un ospedale in città. perché noi siamo partiti da un progetto giustamente fermo dal 2014, ma che aveva già nel suo sviluppo tutto quello che serviva allora, che serve oggi e che servirà per i prossimi 30 anni, io dico perché 50 anni mi sembra una vita, un termine temporale un po' lungo per un ospedale. e i progettisti, in particolare l'architetto Felli, hanno ben delineato le fasi costruttive, l'integrazione degli ospedali storici nel centro urbano. È vero che Firenze ha un milione di abitanti, credo che ne abbia 300 o 400 mila, comunque poco importa. Sicuramente però Firenze non ha solo Santa Maria Nuova come ospedale, ha tutta una serie di ospedali, quindi probabilmente avrebbe potuto fare a meno di recuperare quell'ospedale. Lo ha fatto nel convincimento che un ospedale al centro della città ha tutta una serie di vantaggi per la cittadinanza. Sono già stati elencati nell'intervento del collega Margheretta, quelli che sono i risparmi in termini di parcheggi, in termini di viabilità, dall'avere un ospedale all'interno della città, quindi non ci torno. Ho trovato anche, contrariamente a quello che è stato detto in alcuni interventi, ho trovato anche molta chiarezza, molta chiarezza nello sviluppo, anche della progettazione futura dell'ospedale Parini, perché l'architetto Felli delinea con precisione l'ospedale delle 24 ore, l'ospedale delle 12 ore e il nuovo polo materno-infantile che costituirebbe un elemento di modernità all'interno del complesso sanitario valdostano. Quindi ho trovato tutte queste risposte, che sono risposte che poi hanno contribuito a scrivere questa risoluzione. Questo è un progetto che ha necessità di revisione perché sono passati sette anni, ma è un progetto attuale al quale l'architetto Felli ha dato ancora una grande attualità. Non credo che abbia difeso il suo progetto perché è imbeccato da qualcuno. Credo che la sua esperienza e l'esperienza dell'architetto Pineda, che ha citato tutta una serie di esempi di ospedali cittadini, li portino a dire che questa sia, con riferimento alla nostra città e al nostro sistema sanitario, la scelta migliore da fare. Perché non ci siamo occupati di Covid? Beh, lo dice con molta chiarezza l'architetto Felli. Ad una domanda del collega Gannis, sul perché non è stato pensato un presidio Covid, un reparto Covid, l'architetto Felli, cito testualmente, non è stato pensato perché non ci dovrà essere all'interno del 24 ore un reparto Covid. Perché, come vi ho detto, la possibilità di creare i tre poli permette di poter utilizzare la parte esistente del Parini in caso di pandemia per questo sviluppo, lasciando libero l'ospedale 24 ore di funzionare assolutamente senza intromissioni di pandemia. Cosa che invece crea problemi in un monoblocco perché dover creare dei reparti Covid fa diminuire le attività che in un ospedale invece devono essere previste e che sono quelle soprattutto delle operazioni programmate. Quindi questa è un'altra risposta ai dubbi che lei sottolineava. Vorrei ancora rispondere alla collega Ghisciarda che dice che non è stato rispettato quanto scritto nel DEFRE. Io direi che la nostra risoluzione va avanti rispetto alle problematiche che erano state inserite nel DEFRE e che al momento della scrittura non erano ancora state superate. perché sul DEFRE noi abbiamo detto ferma restando l'opportunità di sondare altre soluzioni qualora gli esiti della verifica sopradescritta risultassero non percorribili. In questo senso credo che l'assessore Barmas questa mattina abbia fugato i dubbi relativi alla convivenza tra i ritrovamenti archeologici e il nuovo ospedale. Non è vero nemmeno che perderemo della superficie perché sempre il progettista ci dice che questa soluzione farà aumentare la superficie di 700 metri quadri. Chiaramente perderemo dei parcheggi che però credo siano ampiamente sostituiti da quello che oggi abbiamo già attualmente in città e da quello che nascerà con il nuovo polo universitario. Vorrei chiudere rispondendo sempre alla collega Spergati chiedo scusa collega ma lei ha richiamato l'onestà intellettuale e il mantenimento della coerenza accreditata alle colleghe Ghiscarda e Minelli che probabilmente hanno mantenuto una posizione ferma rispetto alle loro idee e alla loro campagna elettorale. Credo che chi non ha mantenuto l'onestà intellettuale sia stata lei collega perché la revisione del progetto dell'ospedale Parini per farlo rispondere concretamente alle necessità dei valdostani era scritto sul programma elettorale della Lega ed è stato chiaramente evidenziato anche nel colloquio fatto in fase di costituzione di questa maggioranza nella sede della Stella Alpina quindi le ricordo anche la situazione per cui credo che richiamare l'onestà intellettuale ad altri dovrebbe prima farlo precedere da cioè voglio dire un esame per capire se l'onestà intellettuale è propria di chi la richiede, la richiama per altre persone chiudo rispondendo anche all'assessore Minelli che dice correttamente che oggi non si chiude una fase con l'approvazione di questa risoluzione che noi chiaramente voteremo in modo molto convinto è vero che oggi non si chiude la fase con questa risoluzione oggi si apre la fase che porterà alla revisione del progetto e voglio essere chiaro revisione del progetto significa integrazione a modernamento del progetto dal punto di vista strutturale dal punto di vista architettonico dal punto di vista dei costi e dei tempi questo significa revisione per cui questa fase è propedeutica alla fase che poi porterà all'approvazione del progetto esecutivo all'esperimento di gara e alla costruzione del nuovo ospedale nell'ala est del Parini grazie grazie a tutti grazie a tutti